Sono perfettamente d'accordo con gli interventi che sono stati fatti, nel senso che credo il sistema sanitario pubblico, così conosciamo, tuttavia io credo che bisogna in qualche maniera stare attenti, vigili, perché anche io ho questi timori. Il nostro sistema sanitario, così come è stato costruito nei decenni scorsi, è un sistema che pian piano sta scivolando verso il sistema privato, ci sono alcune attività che ormai sono state totalmente abbandonate al sistema privato, bisogna essere sinceri. Quindi sicuramente c'è un tema di sostenibilità del servizio sanitario, c'è un tema di risorse, non sto qui a ripetere cose che ci sono note, ma devo dire che questo tema delle risorse e io credo che interroghi un po' tutti, governi attuali, governi futuri, governi passati, se stiamo stati all'altezza complessiva di questo grande problema della sostenibilità del sistema. Io credo che occorra una sorta di autocritica, perché devo dire che chi in qualche maniera per una storia anche personale e politica è convinto della sostenibilità del sistema, cioè il servizio sanitario così come lo conosciamo, in effetti le scelte che sono state compiute, in realtà di rientri faceva vedere l'evoluzione della spesa sanitaria negli ultimi anni, un miliardo all'anno, devo dire avendo questo ruolo un po' di coordinamento di assessori regionali nel nostro paese, devo dire che anche questa crescita è stata una crescita molto vincolata per alcune spese, penso alla parte dei farmaci, devo dire poi che casomai ci torno sui farmaci, ma vuoi dire è stata vincolata, quindi di fatto la spesa per il servizio sanitario di fatto non è cresciuta in termini di attività, di servizi, quindi alla fine si è dovuti stare come dire al passo facendo alcune operazioni e non sempre quelli all'altezza dei problemi. Ora io credo che c'è ormai la necessità di porre al centro del dibattito politico questo tema. Probabilmente chi ha voluto, chi ha sostenuto, chi ritiene che il sistema sanitario così come lo conosciamo debba avere ancora un futuro, io credo che bisogna creare un po' nel nostro paese una sorta di grande alleanza, perlomeno in termini di riflessione, perché altrimenti io sento questo timore, l'ho visto in questo passaggio tra il governo precedente, all'attuale, l'ho visto anche in passato dai governi precedenti, in questa fase di passaggio, di vuoto politico, posso dire di vuoto politico, come dire in qualche maniera le lobby che in qualche maniera, le lobby, metto così, lobby eccetera, che almeno chi ritiene che il sistema non deve avere queste caratteristiche che noi conosciamo in qualche maniera si stanno organizzando. Non è un caso lo studio del Censis che descrive come dire una situazione drammatica del sistema sanitario superiore alla realtà per poi scoprire che è finanziato dell'assicurazione. Cioè io credo che bisogna in qualche maniera, chi crede al sistema sanitario, stare molto attento perché ho l'impressione che se non valutiamo bene chi c'è dietro, che cosa sta succedendo, rischiamo obiettivamente anche per una serie di osservazioni di critiche di alimentare un giudizio negativo. Cioè io ho l'impressione che si sta alimentando, il tema della lista d'attesa è un tema che esiste, sono perfettamente convinto. ma in parte è anche amplificato, nessuno parla di appropriatezza, questa osservazione critica anche qui è un'osservazione, poi ci sono la responsabilità per fare delle azioni, non sto dicendo che non bisogna fare, ma complessivamente questa somma di giudizi negative, il sistema assicurativo e la sanità privata e quello porta di fatto il paziente completamente verso il privato. Allora io credo che bisogna, come dire, stare attenti. E poi c'è un altro tema che secondo me non è, forse in parte ne avete parlato, anzi ne avete sicuramente parlato. Cioè il sistema sanitario si sta facendo carico di problemi, quel fondo sanitario che è sempre lo stesso, di problemi che non sono sanitari. Parlo di servizi sociali, la parte socioassistenziale, socioassistenziale, e beh si riducono anche lì il finanziamento e che cosa succede? Che poi abbiamo il carico, quelli che si chiamano estralea, che in qualche maniera noi dobbiamo finanziare ricorrento, cioè ci carichiamo anche di altre competenze, non lo dico per separare competenze, ma per dire che lo stesso fondo deve farsi carico di problemi che hanno caratteristiche socioassistenziali. Così come dobbiamo farci carico di problemi che derivano dalla mancanza, mi pare veniva detto poco fa dal dottor Geddes, e beh ci sono anche altre politiche, cioè l'audopatia, facciamo un esempio, è chiaro che è un carico di sistema sanitario, cos'è quella? Problema sanitario? Sì anche, ma ci sono tutte le questioni collegate alla crisi economica e sociale, le fragilità, cioè non soltanto il fondo è rimasto immutato, ma si sono caricate nuove competenze, dove non possiamo girare la testa da un'altra parte, perché cosa dici? Non ci occupiamo degli estralei, Nino Boetti lo sa, e dobbiamo inventare delle formule, quindi la preoccupazione è tutta contivisibile. Un'ultima considerazione e poi concludo. Io sono anche preoccupato del tema del costo dei farmaci, quella che chiamiamo in termini tecnici la governance farmaceutica. Noi qui in Piemonte abbiamo fatto nell'ultimo anno una serie di gare per l'acquisto dei farmaci, con un grande successo, equivalenti, biosimilari, tutte queste cose qui, ma devo dire, se per un farmaco, rispetto al prezzo originale, riusciamo attraverso la gara ad avere il 90% di sconto, il 90% di sconto, potrei citarne altre, ma sono dimensioni consistenti. Vuol dire che c'è uno spazio importante per il contenimento della spesa e per trasferire le risorse, evidentemente, sulla salute, per ridurre la spesa di 17 miliardi del costo del farmaco nel nostro Paese, il servizio sanitario. Guardate che è una cifra, come dire, consistente questa. Cioè, anche qui siamo stati attenti nel introdurre nel sistema farmaceutico elementi di concorrenza, quando era possibile la concorrenza, di fatto per motivi diversi, e la situazione oggi è questa, c'è un sistema monopolistico che pian piano si comincia a rompere. E il tema del farmaco, come dire, è un elemento, come dire, su quale stare anche molto attenti. Perché anche qui, cioè, quando si dice costo del farmaco, cioè stabilire rapporto prezzo-volume, è una cosa tipica di tutto il sistema produttivo, prezzo-volume. Anche il tema, abbiamo citato Garattini, possiamo fare qualche ragionamento di cosa vuol dire farmaco innovativo? Tutti i farmaci sono innovativi? E ha ancora senso che alcuni prezzi di farmaci sono stati, a un certo punto, autorizzati perché la platea era molto ristretta e poi sono diventati, no? Il prezzo deve essere sempre lo stesso. Cioè, c'è la necessità, posso dire così. Io sono evidentemente per difendere il sistema sanitario, ma credo che sia giunto il momento di una riflessione molto attenta sulle distorsioni che in qualche maniera si sono realizzate in questo tempo, comprese la responsabilità delle regioni. Non sto compresa la responsabilità delle regioni. Quindi, come dire, in questi 40 anni ci saranno sicuramente altre occasioni, ma bisogna che chi creda al sistema sanitario universalista, quello che conosciamo, eccetera, si costruisca una posizione perché io ritengo che in queste fasi di cambiamento del governo, soprattutto quando secondo me c'è non sempre una classe politica che ha competenze, eccetera, eccetera, possono prevedere interessi che non sono proprio pubblici. La deco con molta franchezza. Noi abbiamo incontrato recentemente come regioni il Ministro Grillo. Abbiamo posto il problema del fondo, condivide. Abbiamo posto il problema del togliere questo limite dell'1,4% della spesa per le persone del 2004, addirittura dobbiamo al 2004, condivide. Non vuole essere commissariata dal Ministero dell'Economia, condivisibile, poi è stata commissariata dal Ministero dell'Interno per i vaccini. Però il tema è questo. Bene. Allora, se questo tema è un tema centrale, si apre una discussione che faccia parte dell'agenda politica nazionale. Perché possiamo essere contenti, come è capitato in passato, sì, un miliardo in più, eccetera, ma se alla fine, come dire, il sistema sanitario è importante, non è che in un'agenda politica non esiste più, il sistema del finanziamento. Cioè, se il tema è la flat tax, le cose, come dire, che conosciamo, sono storie. Pensare di un aumento del fondo sanitario, sono storie. Cioè, nel senso che probabilmente ci limiteremo ad osservazioni, a un rapporto dialettico, noi chiediamo di più, noi facciamo di più. Per cui occorrerà, forse, nel nostro Paese, lo dico ad Amedeo, evidentemente a Nerina, tutti quelli che hanno, come dire, un ruolo nazionale. Probabilmente bisogna, in qualche maniera, creare un'occasione in cui tutti quelli che credono a questo sistema si organizzano, fanno una riflessione attenta e stabiliscono anche una modalità per poterlo ancora difendere, questo sistema. Non soltanto perché vale la pena, ma perché, come è stato detto, giustamente, questa è una delle più grandi conquiste della nostra democrazia. Io ne sono, come dire, convinto, ma una semplice, come dire, dichiarazione di principio, posso dire, le semplici dichiarazioni di principio oggi non sono sufficienti. Il trovo delle armi spuntate, la testimonianza è importante, ma credo che occorre una grande azione, probabilmente anche di carattere collettivo, anche se sono parole che non si usano più, ma una grande azione che permette di mettere al centro nel dibattito questo tema. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione e chiedo scusa. Grazie. Grazie.